20 settembre 1870, 20 settembre 1970, un giorno in secolo. Manifestazioni in tutta Italia per celebrare la ricorrenza. A Roma un susseguirsi di cerimonia. L'inizio con la deposizione da parte del capo dello Stato di una corona al milito ignoto. Giusto un secolo fa con la conquista di Roma si compiva l'unità d'Italia. Si chiude con successo il risorgimento laico-borghese, si apre una nuova epoca politica e civile. A Montecitorio un'assemblea congiunta di senatori e deputati. Il presidente Saragat pronuncia un discorso che gli altoparlanti trasmettano. L'inferno del capo di un'assemblea congiunta di una piccola-borghese. se volete scondere l'estesità di volerle realizzare un senso irreparabile. La volontà di rispettare l'azienda è documentata per quanto riguarda l'iniziatra e di informazioni di altri politici e politici di sottolineare il sistema di operazione. La volontà di rispettare l'istruzione di rispettare l'azienda è documentata per quanto riguarda l'iniziatra e di informazioni di politici e politici di sottolineare il sistema di operazione. Basta che ripresezzate le armi! 12 settembre 1860. La storia di quei giorni è nota. Sono note le condizioni della società di allora, le difficoltà dell'Italia contadina che ha trascinato la povertà delle sue masse proletarie e specie rurali fino all'ultima guerra. Ciò che fa risaltare l'opera svolta negli ultimi 25 anni di democrazia, quando la politica nazionale si è ricollegata ai filoni più fortili del pensiero democratico, risorgimentale e ha saputo fare dell'Italia uno dei paesi più progrediti del mondo. Il 20 settembre, che per lunghi anni ha rappresentato una data di divisione per l'Italia, tra clericali e anticlericali, è oggi una vera festa nazionale che nel nome della democrazia unisce tutte le forze sociali, sia quelle che si richiamano al pensiero cattolico, sia quelle che si richiamano al pensiero socialista. L'ericalismo e il laicismo non sono più due bandiere o due fronti, ma sono ormai due esperienze storiche che si vanno fondendo e quanto più si fonderanno, più celere sarà il progresso civile del paese. Bersaglieri e attiglieri filano a parte via, quindi in parteo lungo via 20 settembre. Oggi non si pensa più a portapia come ad un evento a sé stante, ma come all'inizio di un processo storico che ci ha portato alla sostanziale coincidenza di ispirazione che sussiste tra la concezione del diritto e delle libertà dell'uomo, sanciti dalla nostra Costituzione, e la concezione espressa da Giovanni XXIII nell'enciclica Hacem Imperius. A presto! A presto! A presto! A presto! Nel pomeriggio a piazza di Siena la festa continua. Una mongolfiera viene lasciata salire in aria. Recherà forse un messaggio di Roma in festa a un'altra città italiana ugualmente in festa. Tutto no, non era in programma, ma l'urto con l'albero aumenta la sostanza e il divertimento è maggiore. Tutto torna liscio e il pallone se ne va in cielo. Intanto una solenne riunione straordinaria del Consiglio Comunale nel palazzo senatorio in Campidoglio. Il sindaco Darida fa un discorso. Si scopre una lapida. Il sindaco Darida fa un discorso. In piazza di Siena, luci, santare e fiaccole. Il sindaco Darida fa un discorso. 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 Grazie a tutti.